Ho il cappuccio, questa sera io ho il cappuccio perché non sono sereno. Col Friburgo sono arrivato qua e vi ho detto non mi metto il cappuccio perché sono tranquillo, io stasera non sono sereno. Credo che sarà una partita molto complicata. Iniziata! Samp che dovrebbe essere una squadra che comunque attacca, poi negli ultimi metri fa fatica, davanti alla porta non riesce a concretizzare, ma una squadra che non molla comunque. E' vero, auguri a Locke appena diventato papà. Turk, mamma mia che passaggio di Turk. Ci ha regalato il calcio d'angolo Turk. Questo sarà l'unico errore di Turk stasera. L'unico, perché per il resto farà solo delle parate incredibili. Bella apertura di Vlaovic questa. Sale Danilo. Kostic, la palla passa per Vlaovic che tira, Murato. Fagioli è un bel giocatore. Attenzione! Oh, ma è buono questo? Ma no! Ma meno male che l'ha sbagliato. Ma questo è buono? Oh! Oh! Sveglia, eh! Ma figa, Bonucci, ma non si può! Era stato proprio contento Allegri di sentire Pogba che dice Mister. Mi sono fatto male. No, Bremer! Mamma mia, ragazzi, però! Mamma mia! Uno a Bremer, uno a Bonucci e in questi primi dieci minuti più occasioni della Samp. Eh, abbiamo fatto due erroracci. Per quello la Samp ci tira in porta. Due erroracci brutti. Puzzolenti, quasi. Dai, Dujan, qua, eh! Stacchiamo sta porta. Dai! Sul secondo palo. Aggressivo. Bremer! Va bene lo stesso! Va bene anche il gol di Bremer dopo l'errore. Il gol dell'1 a 0. Un minuto dopo. 60 secondi dopo l'errore. Iventus avanti. Yes! Sempre Kostic. E Bremer in aria è cecchino. Ma Kostic, ragazzi, ha un piede caldo incredibile. Bremer! Bremer. 1 a 0 per la Juventus. Che bello stacco. Bella verticalizzazione di Rabiot in qualche modo Vlaovic. Palla che non passa. Attenzione perché Kostic la recupera. E ancora qua. Filippo. Mamma mia, che bel cross basso che aveva messo per Miretti. Kostic. Questa è un'occasione. E comunque tre occasioni da gol per la Juve. Tre volte dalla sinistra con tre assist di Kostic. Credo che sia stato uno degli acquisti più azzeccati in assoluto della Juventus degli ultimi anni. Ma vi ricordate i tempi in cui Rabiot faceva l'ala? L'ala nel 4-4-2 storto? Parte Miretti. Se ne vuole andare lui. Che progressione di Miretti. La difende. Ma è da solo? E la tiene lui. Ma perché era da solo Miretti? Perché nessuno accompagna? Bravissimo Fabio. Miretti sul secondo. Può rimetterla dentro. Bel cross pulito! Bravo Miretti! Ma ancora più bravo Rabiot! Cross bellissimo di Miretti. Pulitissimo. E' gran colpo di testa di Adrian. Non so quanti gol ha fatto in questa stagione. Altro che 4-4-2 storto. Altro che... Altro che... Rabiot! 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 Eh sì, oggi molto bene Miretti. Sembrava una punizione. Angolo che nasce da la verticalizzazione di Miretti per Blaovic. Tra le altre cose. Quindi proprio Miretti determinante oggi. Non ce la facciamo a stare tranquilli una serata. E' già la quarta volta che la Samp arrivi in aria. Se riuscite a fargli fare gol. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto fare gol alla Sampdoria. Eccoci qua. Siamo dei sommari, sì. Lui è anche Mancino. E adesso la Samp ci crede. Ma non ci credo! Ma ragazzi! Ma 2-2 della Sampdoria in casa! Ma non ce la facciamo mai! Non ci riusciamo! Non ci riusciamo! Non ci riusciamo! Siamo dei... Polli è troppo poco! Polli è troppo poco! Non rendi l'idea! Cioè dopo che vai sopra dei due in casa contro l'ultima in classifica. Cioè questi avevano fatto 11 gol fino adesso. Ne hanno fatti due stasera. Non hanno fatto due gol neanche nelle ultime cinque partite praticamente. Ne hanno fatti due col Monza. Noi quando prendiamo gol basta finiamo. Prendiamo gol è finita la partita. Abbiamo perso! Non si può più mai fare gol nella vita! Ne abbiamo preso uno! Ne abbiamo preso un gol! Eh no! Come facciamo adesso? Come faremo mai? Non è possibile che una squadra che prenda un gol in una partita... Basta! Finita! Chiudi in attacco la Samp! Chiudi in attacco la Samp! Chiudi in attacco la Samp! Ma ci rendiamo conto che chiudi in attacco la Samp! Un secondo... Un secondo di respiro. Cerchiamo di respirare. Possiamo fare un minuto di yoga? Chi è? Chi... Chi sa fare yoga? No dai ragazzi! Cioè 3-5-2 con desceglio braccetto no eh! Sì raga escono Bonucci e Barrenecea giochiamo così! Oggi Miretti e Fagioli sono la Juventus! Miretti, Fagioli e Kostic sono la Juventus oggi! Che sono gli unici tre che fanno del movimento senza palla! Gli unici tre! Che muovono il pallone! Quanto caos! Ma se vai così! Boom! Via là! Bim! Bim! Bam! Bam! Bim! Ma se noi la giocassimo a terra! Giocarla a terra! Per Kostic questa palla! Così! A terra! Vai! Vai che andiamo dentro! Bravo Rabiot! Bravo Rabiot! Fagioli va dentro! Ti prego! Bravi Rabiot e Fagioli! Bravi! A terra! Una! Con calma! Non ci vuole niente se la giochiamo a terra! Se la giochiamo palla per terra! Non ci vuole niente! Non ci vuole niente! Invece che alzarla sempre! Doppietta di Rabiot! Così! Con calma! Tranquillità! Posso vedere come la controllate! Molta la scalavità! Molto 25! Rabiot! Rabiot! Vediamo! Eh forse la tocca davvero di mano! Forse la tocca davvero di braccio! Vediamo! Eh cambia tutto eh! Bicipito pettorale cambia tutto! Eh non si capisce! È gol! È gol! E adesso una squadra la chiude sta partita! Dai! Dai che andiamo a fare il quarto! Dai! Andiamo a chiudere sta partita maledetta! Andiamo a chiuderla! Eh rigore! Oh! È rigore! Dai! Dai che facciamo il quarto! Dai Dujan spacca sta porta! Sbloccati! Lo so che pesa questa palla Dujan! Lo so che la porta in questo momento è piccola! Ma ce la puoi fare! L'arbitro che passa due volte davanti a Vlaovic non mi piace eh! È una cosa che non mi piace per niente l'arbitro che passa due volte davanti a Vlaovic! Cazzarola! L'aveva spiazzato il portiere! Cazzo! L'aveva spiazzato! Bravo Dujan! Cazzo! Bravo Kira! Questo devi fare! Questo devi fare! C'hai ragione! Tirare in porta! Sei un attaccante! Egoista! Alla ricerca del gol! Vai! Vai Matti! Vai Matti! Vai Matti! Fatto bene! Non entra mai nella vita! Porca puttana! Buoh! La traversa! La traversa! E poi fuori gioco! E poi fuori gioco! Bravo Quadrado! Bravo Quadrado! Niente! E c'è il gol di Sule! Mi dispiace per Dujan ma sono felicissimo per Sule! Mi dispiace da Matti da una parte ma sono super felice dall'altra e bravissimo Vlaovic ad andare ad abbracciarlo! Questa cosa mi ha veramente riempito il cuore di gioia! Sono veramente felice! Veramente molto felice! E finisce qua! 4 a 2 ce l'abbiamo fatta! Portati a casa! Questi tre punti! Mi dispiace di 72 scopi! Mi dispiace di 72 scopi!